Per me lo sport è vita, primo perché mi aiuta a crescere come persona, avere fiducia in me stessa, avere tanto coraggio anche di esprimere cose nuove e quindi anche allargare la mia mente. Siamo tutti uguali, io ho la signora Williams e non me ne vergogno, tramite le special io ho imparato cos'è la signora Williams, ovviamente essere coraggioso, me stesso. E credo che Special Olympics sia riuscito in tanti anni un po' a cambiare anche le regole, del gioco, perché oggi non parliamo solo di sport e di agonismo, ma parliamo anche di vita quotidiana, sport, di avere tempo ricreativo, di avere amici con i quali uscire, andare in vacanza, mangiarsi una pizza, anche affetti e relazioni.